Quello che abbiamo potuto vedere sono tante pratiche diverse, nel senso da una parte ci sono appunto le autonomie zapatiste che hanno di fatto sottratto dei territori allo Stato messicano e li stanno autogovernando e quindi in tutto e per tutto si autoproducono quello che è il cibo, quello che è il cibo, nel senso al Caracol, all'Unitierra, al Sidesi, il posto dove siamo stati ospitati per l'incontro internazionale e abbiamo potuto visitare anche quelli che sono i terreni appunto dove avviene la produzione del cibo degli studenti che poi stanno lì all'Università della Terra e gli allevamenti ed è tutto organizzato ovviamente, tutto da loro nel senso tramite appunto la messa in condivisione dei mezzi, dei mezzi di produzione e la messa in condivisione ovviamente dei terreni e anche degli animali stessi. Altre comunità come appunto come si diceva come Puenta Madera o Tierra Libertad appunto hanno i terreni comuni che proprio per quello sono di essenziale importanza per loro e proprio per quello fanno di tutto per resistere contro le spropriazioni di questi terreni perché altrimenti mancherebbe il posto dove far pascolare gli animali, dove poter coltivare in particolare una grossa problematica che abbiamo potuto notare soprattutto nella regione dello Yucatan è di come il modello di agricoltura intensiva e di allevamento intensivo stanno distruggendo quei territori perché si può vedere enormi distese di coltivazioni di soia, di avocado, di mango e ovviamente il tutto coltivato secondo le norme delle multinazionali quindi ingenti quantità di pesticidi, OGM e di come questi terreni stanno facendo di fatto far perdere a quei territori una vastissima gamma di biodiversità biodiversità che invece vengono difese dai metodi di coltivazione indigene che è la milpa, la milpa è un sistema di coltivazione che vede nell'agroecologia, nella consociazione anche delle piante che vengono coltivate, un modo di bilanciare quello che è la frattura metabolica ossia il fatto di impoverire i terreni per far sovrapprodurre le piante e la milpa è questo piccolo appezzamento in cui convive il mais, convive allo stesso tempo la zucca, convive allo stesso tempo i fagioli, tutte piante diverse tra loro ma che insieme riescono a equilibrare il terreno e a fare in modo che non si perda appunto questa biodiversità. Stessa cosa invece per quanto riguarda gli allevamenti intensivi abbiamo visto un'enorme quantità di allevamenti di maiali la cui destinazione è il mercato cinese banalmente e che stanno inquinando pesantemente le falde acquifere e non solo i senotte, i senotte sono queste enormi voragini di acqua dolce sostanzialmente e che in questi anni sono state pesantemente inquinate da questi tipi di allevamenti ma non solo anche dalle miniere e appunto sicuramente ritornare, loro lo fanno già, però difendere un sistema agricolo che fa parte del riconoscere la terra e la natura come parte del sistema in cui siamo inseriti e non come qualcosa da controllare e da sfruttare è sicuramente una visione che può far crescere la comunità.